Benvenuti su Dealflower e benvenuto all'ospite di oggi Andrea Mignanelli, CEO di CERVED, ben trovato. Buongiorno. Allora, parliamo di CERVED, parliamo un po' del suo futuro e del suo posizionamento. È passato circa un anno dal delisting dell'azienda, dalla Borsa di Milano. Ecco, qual è un po', diciamo, se avete visibilità sull'andamento 2022, adesso così come punto, e anche un po' quali sono innanzitutto i vostri obiettivi di posizionamento? Voi avete diverse anime, ecco quindi qual è un po', diciamo, il vostro obiettivo, il vostro futuro nei prossimi cinque anni? Certo, buongiorno a tutti. Allora, direi che il delisting è accaduto un anno fa, siamo entrati a pieno regime nel gruppo Ion, che è un gruppo di una fintech globale, attiva in vari settori della finanza, diciamo, e anche del mondo delle imprese. La nostra traiettoria strategica sostanzialmente è la stessa, nel senso aiutare il sistema paese a crescere in maniera sostenibile e a proteggersi dal rischio, lo facciamo attraverso la suite dei servizi che avevamo prima e che stiamo continuando, su cui continuiamo a lavorare. Sostanzialmente c'è il grande mondo dei dati che vengono usati con lo scopo del risk management e della data intelligence di mercato da una parte e poi, come dicevi giustamente, c'è il mondo del servicing dei crediti che abbiamo ulteriormente rafforzato con l'acquisto di REV sul finale dell'anno scorso, proprio per dare un segnale al mercato che il mondo credit management torna ad essere centrale nella nostra strategia. Ecco, a livello di crescita più o meno e di peso delle varie anime, come vedete la divisione c'è anche nel fatturato, nell'attività dell'azienda e negli sforzi che pensate di fare? Il credit management, cuba circa un terzo dei nostri volumi, ha delle dinamiche di crescita diverse perché dipende molto dall'andamento del sottostante, quindi dei crediti problematici. Recentemente come Cervet siamo usciti con una ricerca sul mondo degli NPI in generale, vediamo una crescita futura dei crediti di difficile esigibilità che però ha un riverbero poi sull'industria del servicing con una latenza di un paio d'anni, no? Perché da quando poi si manifesta la crisi d'impresa, quando il credito diventa inesigibile e quando effettivamente la banca si attiva per gestirlo, passano per nostra esperienza dei cicli del credito precedenti anche un paio d'anni. Quindi quel business lì è ben posizionato ma prenderà l'industria nel suo complesso, ripartirà secondo me tra il 23, fine 23 e l'inizio del 24. Mentre invece il mondo dei dati naturalmente è in esplosione e quindi quella è una dinamica molto più immediata. Che è sicuramente anche appunto uno dei core business del gruppo, no? Ecco, da questo punto di vista si parla molto di intelligenza artificiale, voi pensate di integrarla oppure pensate di crescere come in questo ambito? Beh, oggi se ne parla molto di intelligenza artificiale, di machine learning, la verità è che noi come Cervet e questa cosa la facciamo da 15 anni perché è alla base. In realtà anche il concetto di data company come ci siamo sempre chiamati sta diventando obsoleto. In realtà noi stessi ci siamo riorientati, i bisogni del mondo sono riorientati dal dato a degli strumenti decisionali, no? Quindi trasformare il dato in segnali e il segnale in insight. Quindi che vuol dire scoprire qualcosa, che serve per decidere meglio. Quindi il contenuto di machine learning che c'è nei nostri processi è già molto elevato. L'azienda sta andando verso questa transizione da una data company a una cosiddetta algo firm. Dal passare da essere un'azienda che produce dati e vende score a un'azienda che invece vende algoritmi per le decisioni che sono dentro prodotti, prodotti specifici per dei bisogni dei clienti conclamati, no? Che può essere il digital lending, può essere la gestione dell'anti-money laundering, può essere per esempio i rating ESG. Quindi lo sforzo dell'azienda è proprio prodottificare. Esatto, quindi dipende anche molto da cosa richiederà il mercato, da cosa richiederanno le imprese. Ecco, da questo punto di vista, lato credito problematico, insomma, è pubblico che c'è questa trattativa per l'acquisizione di prelios, quindi anche lì probabilmente si vedrà poi l'integrazione come avverrà. Non le chiedo se state programmando anche altro, perché mi ha detto appunto dipende da un po' in maniera opportunistica, però c'è questa possibilità, state guardando anche altre cose in altri ambiti? Beh, noi abbiamo un dipartimento di M&A che, come dire, fa da radar per tutte le iniziative che ci possono essere sul mercato, in grande connessione col marketing strategico. Quindi nella gestione del nostro programma di sviluppo prodotti, l'occhio all'M&A è sempre puntato perché può presentare opportunità interessanti. Ecco, l'ultimo punto sulla sostenibilità. Adesso si parla molto di ESG, ma soprattutto di rating ESG, perché di ESG si parlava molto anche prima della pandemia, però c'è sempre più la necessità di mettere dei paletti, no? Ecco, con i dati che voi avete a disposizione da questo punto di vista, qual è un po' la vostra proposta? Beh, sicuramente, come dire, accompagnare le imprese nel percorso di quantificazione, in primis, della loro impronta ESG e poi di miglioramento nel tempo. Questo è fondamentale sia per le imprese, sia per le istituzioni finanziarie che le devono finanziare. E per farlo ci vogliono dei metodi di calcolo oggettivi. Noi da tempo abbiamo inserito la nostra attività di rating e scoring ESG all'interno della rating agency, che è un'attività regolamentata. Benché oggi ancora l'ESG non sia un'attività regolamentata, noi l'abbiamo messa lì dentro proprio perché volevamo dare il senso di applicare lo stesso rigore scientifico e metodologico agli score ESG, così come facciamo con gli score creditizi. L'industria ha bisogno di quello e noi, come dire, ci stiamo muovendo per accompagnare sia le imprese ad avere dei rating su se stesse, sia le banche per valutare i loro portafogli, il loro footprint energetico piuttosto che ambientale per quanto riguarda gli investimenti che fanno. Sì, è sicuramente molto necessario, essendo difficile appunto incastrare, incassonare in dei rating tutte queste informazioni più dati, si hanno a disposizione sicuramente più utile. Ultimissima domanda, un po' visto che avete fatto anche di recente il report sulle imprese, un po' una view dal suo punto di vista sulla situazione italiana, sulle imprese, su quest'anno, che insomma sembrava l'anno scorso che sarebbero dovute succedere molte cose che le imprese non ce le avrebbero fatte, che avremmo avuto, non so, uno shock energetico, l'inverno al buio, in realtà non si è verificato niente di tutto questo, la situazione sembra sotto controllo, ecco un po' un outlook per il 2023. Sì, ancora una volta negli ultimi tre anni siamo stati abituati ad avere degli shock molto imprevisti, come è stata la pandemia nel 20, la guerra nel 22 e sempre di più c'è l'evidenza che questi shock sono asimmetrici e quindi hanno degli impatti molto diversificati sulle imprese, quindi generalizzare l'impatto di un evento sull'economia è sbagliato. Bisogna entrare nel merito perché gli effetti che ha avuto il Covid sull'economia sono molto diversi da quelli che sta avendo la crisi energetica perché impattano settori diversi dell'economia, quindi riuscire a calcolare questi impatti a livello granulare, atomico, no? Quindi non soltanto per settori ma per microsettori addirittura per imprese è quello che poi ti restituisce delle informazioni utili per poi gestire il business, sia che tu sia un'impresa che lavori con le altre imprese, sia che tu sia una banca che devi finanziare. La situazione delle imprese qual è? Beh, direi che, come dicevamo, meno decisamente migliore rispetto alle aspettative di inizio anno l'effetto primario è che probabilmente la probabilità di default nel 2023 che si manifesterà sarà più bassa rispetto alle previsioni e rischiamo di tornare a dei livelli pre-pandemia soprattutto in concomitanza con l'allentamento degli strumenti di sostentamento da parte del governo, no? Quindi una soft landing, diciamo, certamente un aumento degli NPI nel 2023, come dicevo prima e soprattutto all'inizio del 2024, soprattutto molto diversificato per settore. Esatto, quindi anche qui serviranno molti dati anche per gestirli. Bene, grazie mille Andrea Mignanelli. Grazie a voi, a presto.